Così Salvini è uscito dall'agenda di Draghi, il premier continua a non riceverlo, di sabato 12 marzo 2022, comunicazione di servizio, Matteo Salvini è uscito dall'agenda di Mario Draghi. A Palazzo Chigi non si dannano l'anima, la considerano ormai una causa persa, il cruccio iniziale è diventato consapevolezza. Amen, il premier e il leader della Lega non si vedono dai tempi del Quirinale. Sembra passata una vita, in mezzo ci sono stati il Covid per il capo del carroccio, l'invasione dell'Ucraina e la guerra sul Catasto. Ma poco cambia. Nelle stanze del governo c'è l'impressione che se Salvini dovesse andare all'opposizione non sarebbe un dramma. Lui non si muove, ma quando può si sfoga questo governo è di sinistra. La differenza fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni in questo momento sta nelle citofonate. Il primo continua a chiedere.